Grazie a tutti. 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 quotidiano e con una guida che rimarrà per sempre. Con il lavoro incessante dei successivi rettori, oggi il professor Andrea Sironi, e dei successivi consiglieri delegati, oggi il dottor Bruno Pavesi, la Bocconi è diventata quello che è diventata, ma quello che è oggi è semplicemente, siamo sicuri di poterlo dire, un punto di transito verso una Bocconi alla quale un giorno, pensando ad oggi, si guarderà, spero, con nostalgia e simpatia. Nell'insegnamento di Spadolini come presidente, credo che abbiamo tutti tratto soprattutto il senso molto spinto, totale, dell'autonomia di un'università, da ogni potere economico o politico, che non significa affatto distanza dalla vita dell'economia, dalla vita della politica, dalla vita della società, ma anzi partecipazione molto profonda e consapevole, ma con totale autonomia di pensiero. Nello spirito di Spadolini, la Bocconi ha preso molte iniziative al di là di quelle strettamente istituzionali della didattica e della ricerca che il Rettore Sironi ha molto sinteticamente illustrato. Ricordo proprio un'iniziativa che abbiamo preso nel 2007 con il Corriere della Sera, è un abbinamento non casuale questo e non episodico e speriamo durevole anche in futuro. Del resto un nostro docente Luigi Enaudi, che mai divenne Corriere della Sera, fece però molto per dare lustro sia alla Bocconi sia al Corriere della Sera e credo che ci riuscì in entrambi i casi. Bene, quell'iniziativa la intitolammo Economia e società aperta. Era il 2007, sembrava di essere in periodo di globalizzazione e integrazione prorompente e senza limiti e senza pesanti interrogativi dall'interno. Era però già allora possibile prevedere che così non sarebbe stato e che quel titolo che poteva sembrare descrittivo a quell'epoca Economia e società aperta era invece un ambiziosissimo obiettivo che avrebbe richiesto e che ancora richiederà grandissimi sforzi di fronte a processi economici, sociali, psicologici e identitari che portano tutti a rinchiudersi su se stessi. Io credo con gravissimo rischio per l'integrazione europea e per gli aspetti positivi della globalizzazione. L'Europa, nelle parole di Spadolini, per risparmiare minuti non lo cito, è stato un riferimento veramente costante e ha molto contribuito Spadolini a rendere questa università un punto di collegamento spontaneo, quasi naturale, tra il nostro Paese e tutto il nostro Paese. Grandi sforzi da Spadolini e da Guatri anche sul piano finanziario furono intrapresi in quegli anni di loro gestione per assicurare che la Bocconi, per quanto riguardava gli studenti italiani, fosse sempre più aperta ai non milanesi, ai non lombardi, contribuisse al Paese prima di proiettarsi nella internazionalizzazione. Ebbene, punto di collegamento naturale con l'Europa e oggi c'è da chiedersi come reagirebbe Spadolini di fronte al modo in cui i suoi successori, membri della politica a tutti i livelli, in quasi tutte le denominazioni partitiche, agiscono, interagiscono con l'Europa. Quanto vi sia ancora di quel fondamento culturale e politico in senso nobile che lui vedeva nell'Europa o quanto invece l'Europa diventi un inerme pallone di allenamento pugilistico di fronte a contese che sono in un numero crescente di Paesi, non solo nel nostro, rivolte essenzialmente all'orizzonte elettorale interno di breve periodo. L'Europa ha molto, percorrendo pagine e discorsi di Spadolini già si trovano allora i segni di questo, ha molto da rinnovare, ha moltissimo da fare, ha molte pecche da emendare, a cominciare da un maggiore equilibrio tra i suoi stati membri. Ma come ci si può lamentare, ho in mente pagine specifiche di Spadolini su questo, di una Germania che assume un peso maggiore di quanto gli altri e la stessa Germania vorrebbero se la Francia è in profonda crisi di identità e sta scoprendo a proprie spese che quel sistema presidenziale da alcuni considerato il massimo dell'efficacia decisionistica è in realtà probabilmente una palla al piede nel momento in cui occorrono larghi accordi per fare le riforme così profonde per rendere i nostri paesi in grado di sopravvivere bene nella globalizzazione. E se l'Italia è molto concentrata su a volte forme di assertività verbale non sempre sostenute da quel silenzioso, incisivo e pesante lavoro come è quello che ha consentito all'Italia di sempre lasciare una traccia imponente attraverso le proprie presidenze ruotanti dell'Unione Europea. Fu sotto presidenza italiana come quella attuale italiana che speriamo si concluda con il migliore dei successi. Fu sotto presidenza italiana che venne raggiunta la decisione anni fa del suffragio universale per il Parlamento Europeo. Fu sotto presidenza italiana che a Milano nel 1985 si mosse la fiamma del mercato unico. Fu sotto presidenza italiana a Roma nel 1990 che si crearono le vere premesse della moneta unica. E fu ancora sotto presidenza italiana, meno ricordata questa, nel 1996, che l'Italia agevolò il lancio da parte della Commissione Europea del primo nucleo di proposte per il coordinamento della fiscalità. Quel lungo cammino ancora lontano dalla meta evidentemente, soprattutto a causa della regola dell'unanimità, che lo stesso Spadolini aveva identificato e criticato come un grande fattore di freno, ma un processo che è cominciato con un input da parte della presidenza italiana. E voglio ricordare, essendone stato testimone come commissario all'epoca incaricato della fiscalità, che il primo grande impulso avvenne nel 1997 con l'adozione di principi di base che poi hanno portato allo scambio di informazioni, che poi hanno portato alle azioni che oggi la Commissione sta conducendo contro certi paradisi fiscali per le società all'interno stesso dell'Unione Europea. Bene, voglio assetticamente ricordare che non ci sarebbero stati quei risultati nel 1997 senza la determinazione negoziale fortissima dell'allora Primo Ministro e Ministro delle Finanze del Lussemburgo, Jean-Claude Juncker. Signor Presidente, credo che adesso lei sia collegato. Le ho rivolto a nome di tutti all'inizio alcune parole di un calore che lei può immaginare e che non, ripeto, sia per la sua sobrietà sia per non abusare del tempo qui nell'aula magna che è quella, questo voglio ricordarlo, che lei inaugurò nel 2008. Europa, Bocconi, Corriere della Sera, chissà se è lecito a un cittadino lettore del Corriere della Sera da tanti anni e che ha avuto la fortuna di scrivere su quel giornale per tanti anni, notare con ammirazione che il 3 maggio del 1998, direttore Ferruccio De Bortoli, primo e forse unico quotidiano in Europa, il Corriere della Sera, in occasione del varo della moneta unica, esibì nella propria testata la bandiera dell'Unione Europea. Nel marzo di quest'anno, forse per motivi pratici, non dico che sia stata ammainata, ma ci siamo accorti che non c'era più. Le bandiere si issano nei momenti in cui è più dura la battaglia. Troverei molto significativo, è un auspicio personale, se il Corriere della Sera oggi, in cui la battaglia è controcorrente e difficile, come tante battaglie fatte e vinte nella sua storia dal Corriere della Sera, ripristinasse quel simbolo che non è un simbolo di compiacimento, ma che è un simbolo di impegno al quale l'Italia, credo, possa e debba dare ancora grande contributo. Concludo anch'io con brevissimi ricordi personali circa il Presidente Spadolini. Uno che credo sia stato vissuto da diversi dei presenti, si svolse nella precedente Aula Magna della Bocconi, l'8 marzo del 2003. avevamo invitato per il lancio del corso di laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali l'allora Presidente del Consiglio, Giuliano Amato. Poiché quel giorno venne, dopo una giornata nella quale il Consiglio dei Ministri aveva adottato determinati provvedimenti in materia di giustizia, che non avevano proprio incontrato il plauso unanime, il Presidente Amato venne accolto nell'Aula della Bocconi da rumorose manifestazioni critiche. E il Presidente Spadolini si alzò e disse «Vi prego ragazzi, Giuliano Amato, prima ancora che Presidente del Consiglio, è professore universitario. I Presidenti del Consiglio passano, i professori restano, smettetela di contestarlo». E i fischi si trasformarono in un grande applauso, segno della capacità di presa del Presidente Spadolini anche sui giovani che erano mossi da intenzioni critiche. Un altro punto che voglio ricordare è, ho detto del rapporto di grande devozione da parte mia e di guida da parte sua che avevo col Presidente Spadolini quando ero rettore. Beh, forse posso ricordare l'unica volta in cui si irritò con me, ma veramente molto. Non pensavo che fosse così potenzialmente irascibile. È un episodio che riguarda il Presidente Napolitano, al quale non l'ho mai raccontato. Credo che fosse il 1993, Spadolini Presidente del Senato, Giorgio Napolitano Presidente della Camera. Spadolini era in missione all'estero per qualche giorno. Io ero rettore e ho letto in un giornale milanese che il giorno dopo il Presidente Napolitano sarebbe venuto a Milano per una serie di impegni. E mi sono permesso, dopo che avevo avuto col Presidente rare ma intense occasioni di conversazione, di telefonargli per chiedere se potevo permettermi di invitarlo a colazione alla Bocconi. Il Presidente Napolitano accolse questo invito. Avemmo una di quelle conversazioni che poi, devo dire, si sarebbero moltiplicate e approfondite negli anni successivi. E quando il Presidente Spadolini lo venne a sapere, semplicemente perché io in modo innocente glielo dissi, veramente montò su tutte le furie. Montò su tutte le furie e credo che avesse ragione lui. Ma come si è permesso di invitare alla Bocconi un'autorità dello Stato, mio collega, senza che io lo sapessi e in un giorno di mia assenza? Da quel giorno ho imparato a essere più diplomatico. e questa persona così ricca di sé e che arricchiva gli altri aveva anche la capacità di estendere la propria gioia agli altri visti in fondo come parti di sé. Ho trovato in una ricerca d'archivio destinata ad altro scopo una lettera con la quale concluderò di Spadolini, Presidente del Consiglio al primo Ministro britannico signora Thatcher. È datata 30 giugno 1982. Dovevano essersi incontrati a un G7 e scrive il Presidente Spadolini Dear Mrs. Thatcher ricordando la nostra conversazione a cena ieri sera sono felice di gioire con lei per la vittoria della nostra squadra di football sull'Argentina. Era il tempo della guerra nelle Falkland. in attesa di vederla il 7 luglio a Roma per il nostro incontro bilaterale sinceramente Giovanni Spadolini. Quindi il coinvolgimento di altri che probabilmente non se l'aspettavano nelle proprie gioie. Ecco la personalità di Giovanni Spadolini che vogliamo ricordare infinite dimensioni infiniti ricordi tantissimi moniti per noi e io desidero non posso farlo con lei signor Presidente della Repubblica lo farò in una prossima occasione che spero mi concederà ma lo faccio col Presidente del Senato e con le altre personalità qui presenti di consegnare un libro intitolato Rileggere Spadolini Storia, giornalismo, istituzioni e politica università che l'Università Bocconi Editore ha con la Fondazione Corriere della Sera e con il contributo di memoria della Fondazione Spadolini e del Professor Cecuti voluto pubblicare in questa occasione. Grazie.